Dopo un campionato esaltante, chiuso con un bel quinto posto, iniziano i play-off per l'Amel Scuola Baschettarezzo, che domenica pomeriggio per gara 1 dei quarti di finale sarà impegnata sul parquet della Manetti Castelfiorentino. Non è la prima volta che le due società si affrontano nei play-off. Il precedente risale a ben 15 stagioni fa, quando nel quarti di finale del campionato di Serie B 2006-2007 l'allora Euteria Rezzo si qualificò per le semifinali superando la Fanegnami Castelfiorentino per 2-1. In questa stagione le sfide tra le due squadre si sono concluse con una vittoria per parte, ma la partita del girone di ritorno giocata Castelfiorentino è stata quella della svolta per la fase finale della stagione dell'Amel che dopo aver subito una pesante sconfitta, 80-54, ha trovato le energie per reagire ed infilare una serie di otto successi consecutivi. Per l'Amen la chiave della partita sarà l'efficacia difensiva nell'imitare i cannonieri e avversari. Castelfiorentino ha infatti ben 5 giocatori che viaggiano oltre la doppia cifra di realizzazione a partire da Pucci che è chiuso la stagione regolari con 15,5 punti a partita. L'appuntamento con Gara 1 è per domenica 1 maggio alle 18 al Palabetti di Castelfiorentino. La formula di questo primo turno prevede che raggiungere le semifinali sarà la formazione che conquisterà per prima due vittorie. La gara 2 sarà in programma giovedì 5 maggio alle 21 al Palace Portestra e l'eventuale gara 3 di nuovo al Palabetti di Castelfiorentino domenico 8 maggio alle 18.